Profumi e materie prime naturali Allora, io non sono un grandissimo esperto, ma sono semplicemente un appassionato come ben saprete, quindi parlo sempre per quella che è la mia prospettiva e per quello che penso Allora, diciamo che negli ultimi anni è molto difficile trovare un profumo completamente naturale che ha materie prime completamente naturali Ma attenzione, secondo la mia esperienza, materie prime chimiche non vuol dire un profumo di bassa qualità perché ci sono materie prime di qualità scadente e materie prime di ottima qualità Comunque sia, per mia modesta esperienza, i profumi che hanno un sentore più naturale, tra virgolette, sono Sabbia bianca della Profumum Roma Poi ci sono i vari grid, tra cui Royal Hood, veramente fantastico e il mio ultimo acquisto, di cui vi parlerò anche su YouTube Portrait Toffaletti di Frederic Malle Ma questi sono solamente alcuni, perché altrimenti dovrei fare un video di un'ora perché ci sono veramente tante fragranze eccellenti Ripeto, è solamente un mio punto di vista e sicuramente ci saranno decine di profumi completamente naturali che io ancora non conosco Grazie per l'interesse, un saluto e continuate a seguirmi